Ragazzi ho trovato un lama Dove c'è una funetina A casissimo E' normale sta cosa? Infatti, e siete in 28 Potreste vincere Continua a registrare Stai lì, stai lì Cosa che prendo? Succo succoso o medikit? Non lo so Decidite Succo succoso Va bene Perché è più facile Ci vuole più o meno tempo Ok ragazzi Questa qua è il colpo di fortuna se vinco Non è cosa mia Perché non ho fatto niente Infatti hai zero kills Zero kills, zero niente, zero tutto Ok Proprio stra a caso Se vado lì esco Sei in ansia? No Ma perché? Io sono sempre in ansia E' il momento di pubblicizzare Iscrivetevi al Savo713 E anche ai frate gamer Iscrivetevi a questo canale raga E' molto importante E' anche importante iscriversi Iscrivetevi al Savo713 Mi raccomando Che è scritto qui Che è scritto qui Che è scritto qui Stavo verso Ok si è fermato Vai in safe Vai in safe Vai a condotti Ok Vedi no? Non devi stare fermo Ti cidono Madonna Di qua Di qua Di qua Di qua La safe Di qua Sì Raga poi stiamo registrando Proprio alla cacchio di cacchio Alla cacchio Perché No no Non fare il zoom a caso Perfetto Alla cacchio perché Ok Perché Cioè Ben promesso Che se arrivavamo Almeno a 20 Persone 20 iscritti 20 persone Ah no 20 persone Siamo a 22 raga 20 iscritti Avrei Avrei messo a registrare Proprio così Alla cacchio di cacchio E ragazzi Su El Savo 713 Se raggiungiamo I 20 iscritti Porteremo un video speciale Con Luke Quindi Esatto Quindi dovete iscrivervi È importante Cioè non lo so E qua se raggiungiamo I 30 iscritti Farà un video speciale Con noi Con El Savo 713 Ancora 3 iscritti Dai raga 3 iscritti 3 iscritti Mancano È veramente importante Per noi Aspetta un altro momento Di pubblicizzare Basta pubblicizzare Infatti Mi firma la partita Che è meglio Madonna Siete in 18 Oh future Codentroplani 18 persone 17 Buttati e clicca X Semplicemente Ok Ho paura di quello Che stai per fare Appena ti butto E clicchi X Bravo Bella lì Ci ha trovato un posto Luttato Non luttato Proprio Mi aveva lasciato Tutte le case Sommi G Ho visto uno Ho visto uno sparo Corri Ho visto uno sparo Un tizio Si è suicidato Ho visto un tizio Che si è buttato Però non è morto Non è morto Dalla muori Dalla muori Ma forse hai usato Il coso È morto No il cito Non penso Si avrebbe già ucciso Da Ma che cosa Cosa ho visto Ho visto un'ombra Un'ombra Passare sopra Oddio santo Tu stai fermo Schifo Che Ma la cavolo Di cane Non lo so perché Come il video Che si è L'overboard Non lo prendo Perché non sono capace Cioè madonna Ma che schifo Di armi hai E lui ti stava pure guardando Se usavo il pompa Lo scioltavo Gli ho voluto lasciare Un momento in più di vita Infatti Tu potevi sopravvivere amico Ma no Oh L'hai legato questo Già che ci sono Attento Così proprio ti ciocchinano Corri Via Quanto è che mi rigenera questo È fino A 75 Quindi arrivi a 100% Grandi successi Siamo ai 12 12 12 Wow Mamma mia Se arrivo almeno terzo Shoppi Shoppi ancora No No Non si fanno niente C'è la skin Quella che non hai shoppato No 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 Non sappiamo un bel niente Adesso Eh ma la signora è bella Non è che sia la skin Eh ormai Non ci diamo più possibilità Mi dispiace Eh Erano due partite Erano due partite Questa qua è la quarta Che fa quindi Oh Eh vabbè Ce l'ho già tutto La skin In dieci Top dieci Raga Sei in top dieci È il tuo record No il mio record è quattro Sì è vero Sei arrivato quattro Top dieci Perché non mi corre Questo personaggio Questa non mi corre Si blocca Eh non sappiamo il perché Mi spiace Allora Vado più nella safe Cioè di qua Ci sono delle bende Prendile Ti potrebbero essere I cosi Prendi quelle là Che non mi ricordo Mentre loro Sono degli slurp Abbassati Ah il lì Sguazzo Sguazzo qualcosa Usa una barre Da bevuto Cos'è Un po' di partite Diverse È una sfida Cos'è? Boh La tengo Sì tienila Tanto per Siete in nove Oh madonna Vai a prendere l'air drop Saranno tutti in centro Top nine No dai Purtroppo ci andranno tutti Adesso Sì è vero Sì è sicuro Meglio di no Meglio di no Sì ma io li prendo da qua Quando vanno Oh otto Uno ha sbagliato l'atterraggio Dai non ci credo Da me Diciano Sono dei labbi Posso anche Ho due trappole Bene Da quando hai due trappole? Ah dal Dal lama Ah vabbè Sì è certo Sì sì Oh oh Deve andare in safe Va bene qua Dobbiamo decidere bene Quello che dobbiamo Raga ma senza cavalletto È stra difficile Registrare Sì ci fa male la mano Eh beh Non convene adesso Prendere No eh Ho sbagliato 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 Stiamo registrando malissimo Questo video No no Eh Proprio In scomodità assurde Ma perché È un video da cavolo Dobbiamo registrare Questo momento epico Marti ha preso il cavalletto Ragazzi No vabbè Ci vuole un botto di tempo Per attaccarlo Facciamo meno Era meglio lasciarla aperta Uè Che costruzioni hanno fatto qua Lotte Dura Siete in sette Sette regà Sei perché non sono io Sì Qua sei nemici Sei nemici ragazzi Cioè È un momento molto duro Ora si sono in asia Potresti sì vincere Oppure anche solamente Superare il tuo record Di posizione Cioè guarda Cioè si ferma Quando corro si ferma Ma l'ultimo vince di tempesta Vinci Vince di tempesta Vince di tempesta Amore Però sto capendo Non sto capendo Dove sono tutti io Ho paura di questa cosa Perché la safe è piccolissima Guarda qua Sì Praticamente qua Sì ma può arrivare anche a più piccolo Di così Lo so Lo so Molto piccolo Oh Un è morto Sei Sei Non c'è 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 Con i tuoi soldi Con i tuoi soldi Quanto costa 1600 1600 1600 Sono 16 euro C'è uno No non puoi volire ora Attento Maledetti No No Sei stato bravo Quinto Quinto Nora Nora È stato venganza di schifo Contra Kills Ah ecco cosa servivano Le barche di cera si danno lo scuro Eh certo E non me lo dici Ah scusami Va bene facciamo un'altra Regà Per intanto Ciao